Io ho, Cadocicoc, Cudeporti. Io ho, Cadocicoc, Cudeporti. Io ho, Cadocicoc. Io ho, Cadocicoc, Cudeporti. 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 Sì, sì, sicuro che sì. Interpasso da poco a poco trattando i budget, non so se è un focus, da basta arriva a un mondiale, però interpasso da metà, puoi trattare del background. Del background, sì, sicuro che sì. Bene, arriva un buon cammino andò. Sì, sì.